Cittadini e turisti possono visitare anche quest'anno i presepi in castello a Vigevano. La mostra si trova nella strada sotterranea nuova. Il luogo emana aria natalizia in ogni angolo. Ciò che colpisce appena si varca il portone di ingresso è una statua di San Francesco, donata dai frati vigevanesi. Questo perché nel 2023 si festeggiano gli 800 anni dalla nascita del presepe. Il primo, risalente al 1223, la tradizione vuole che sia stato ideato proprio dal santo di Assisi. Siamo giunti alla nostra settima edizione di questa mostra dei presepi. Il primo anno è stato nel 2014 per festeggiare la parrocchia dei Batù qui a Vigevano. La mostra poi ha avuto successo, è stata richiesta diverse volte. Ci siamo fermati un anno sabbatico dopo i primi due che abbiamo fatto. E poi siamo stati obbligati a fermarci i due anni del Covid. Siamo arrivati alla nostra settima edizione con un successo sempre maggiore della mostra con tanta più gente che è venuta a vederci. I presepi sono di ogni forma e dimensione. Quelli napoletani si riconoscono dalle scarabattole, teche di vetro con cornici in legno che contengono la nascita di Gesù. Parecchie le rappresentazioni in marmo, cartone e ceramica. Uno dei più grandi raffigura Matera ed era stato costruito nel 2019, quando la città italiana era capitale europea della cultura. Alcuni presepi sono stati richiesti dal Duomo di Orvieto durante una gita compiuta dagli organizzatori della mostra ad Assisi. La mostra sarà aperta fino a domenica 7 gennaio, ma i più appassionati potranno richiedere le necessarie informazioni per partecipare ai corsi teorici e pratici per la realizzazione dei presepi.